E' un incrocio tra un piccolo canguro e un grosso topo. Si tratta del marsupiale australiano Cuocca, animaletto socievole e con un'espressione di costante serenità che lo ha fatto chiamare l'animale più felice del mondo. Data la sua attitudine all'amicizia con gli esseri umani, in breve tempo il Cuocca è stato fatto oggetto di affetto e attenzione, anche alimentari. E qui spunta il problema. Il marsupiale infatti ha sviluppato una fortissima passione per il pane, donatogli in quantità dagli australiani nonostante i divieti. e ciò mette a repentaglio la salute dell'animale che addirittura ora rischia l'estinzione. Per continuare a vedere questi occhietti e questa specie di sorriso urge al più presto una nuova dieta.